Musica Tragico incidente lungo la strada cesanense nel comune di Mondolfo, muore centauro di 47 anni. Via Ruggero Ruggeri a Fano, una strada pericolosa. A denunciarlo sono i turisti che frequentano la spiaggia a Sassoni. Biciclette troppo veloci lungo il centro storico di Fano, ecco che cosa ne pensano i fanesi. Limitazione, ma le limitazioni non esistono, perché quando c'è una limitazione, tanto tutti vanno in bicicletta, veloci o non veloci. È meglio di dire che è una parte pedonale e non vanno in bicicletta. Creatività, eleganza ed emozioni, le telecamere di Fano TV, alla scoperta delle opere dell'artista Amedeo Fini. Un cordiale saluto cari telespettatori di Fano TV e benvenuti a questo nuovo appuntamento con l'informazione locale di Occhio alla Notizia sul canale 19 di Fano TV. Apriamo con la cronaca. Un tragico incidente si è verificato questa mattina in cui ha perso la vita un 47enne di Mondolfo. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo procedeva in direzione Maremonte a bordo della propria moto sulla provinciale cesanense nella frazione di Sterpettine nel comune di Mondolfo, strada già protagonista di numerosi incidenti. Il Centauro, in sella ad una Yamaha, si è scontrato contro un'auto, una Seat Ibiza, condotta da una donna di origine milanese, perdendo la vita sul colpo. Ad intervenire nell'immediato sono state le pattuglie dei carabinieri e della polizia locale. e il 118, ma ormai per lui non c'era più niente da fare, sotto shock la conducente della macchina e i residenti della zona. Un cinquantenne di Ascoli Piceno è rimasto incastrato dopo il ribaltamento del proprio trattore nelle campagne di Poggio di Bretta. L'uomo, che ha riportato solo una ferita grave alla gamba, è stato portato con l'eliambulanza al Torrette di Ancona. E cambiamo argomento, via Ruggero-Ruggeri a Fano è una strada pericolosa. A denunciarlo sono i turisti che sono in vacanza nella nostra città e frequentano la spiaggia di Sassonia. Ma sentiamo che cosa hanno detto ai nostri microfoni. È una delle vie più pericolose di Fano, segnalata molte volte alla nostra redazione e anche all'amministrazione comunale. Stiamo parlando di via Ruggero-Ruggeri, che costeggia il mare e la spiaggia di Sassonia. Questa strada era divenuta famosa per le forti mareggiate che colpivano tutto il tratto, ma ora, grazie alle scogliere, è sicuramente migliorata, ma non sotto l'aspetto della viabilità e della sicurezza. Infatti, molti ciclisti e pedoni, soprattutto turisti, lamentano il manto stradale sconnesso, la poca illuminazione e la forte velocità dei veicoli a motore a due e quattro ruote. Beh, sì, io avendo una portatrice identica, premetto che vengo qui al mare perché mi piace, però ultimamente ho trovato molta difficoltà anche a portare mia figlia. L'avvelamento della strada è notevole, si nota, basta guardarlo. Oltretutto non c'è un passaggio né per i pedoni, né per le biciclette, soprattutto neanche per i disabili. Quindi molte volte sei costretta a camminare lungo il bordo della strada. Qui le macchine vengono velocissime e a volte ti devi spostare di corsa per non essere presa sotto, perché magari distratti o chissà per quale motivo. Quindi secondo me sarebbe opportuno riqualificare questa parte di zona, anche perché è frequentata tantissimi dai turisti. E quindi magari rimettere a posto una strada e perché no mettere magari dei paletti di segnalazione, in modo che anche le macchine non parcheggino dove ci sia anche la percorrimento dei pedoni. Tra l'altro ci sono anche le strisce pedonali che non sono molto segnalate. No, diciamo la verità che non si vedono più per terra, quindi anche se tu ti fermi, gli automobilisti che vengono non si fermano per farti passare, perché non si notano più. È vero che, devo dire, c'è stato più avanti, se voi vedete, a un chilometro da qui ci sono, magari hanno fatto una specie di pedana che va fino al mare, però anche lì i parcheggi non si trovano. Sono anche pochissimi i parcheggi per i disabili nella zona Sassonia. E questo mi dispiace, quindi molte volte nessun disabito o pochissimi riescono a usare quella tipo di pedana. Di norma qui vanno molto veloci, poi la sera non è molto illuminato, quindi si fa anche un po' fatica ad attraversare. In bicicletta o a piedi comunque la strada è leggermente sconnessa, quindi si rischia anche di cadere con la bicicletta per far passare le macchine. Anche il cemento qui è abbastanza alto, quindi con la bicicletta è difficoltoso, bisogna stare proprio sulla riga, altrimenti si rischia di cadere. Sì, è vero, infatti tante biciclette stanno in mezzo alla strada per evitare di cadere anche sui sassi, perché poi rischiando di prendere la dunetta dell'asfalto ci si può ribaltare. Voi da dove venite? Da Perugia. E voi in questa strada passeggiate tutti i giorni? Passeggiamo tutti i giorni, però se ci fosse una pista ciclabile sarebbe meglio, ecco. La gente va veloce qua? Sì, va veloce, certo, va veloce, però ecco, se c'è una pista ciclabile è molto meglio. Scusi, anche avvallamenti? Beh, c'entra, io cammino dappertutto, monti dappertutto, però ecco, riesco a camminare anche qui, però ecco, se c'era una pista ciclabile era meglio. Lei di dov'è signora? Di Bergamo, e quindi sono abituata alle piste ciclabili, poi non suggerisco altro, sono qua in vacanza. Che cosa ha bisogno questa strada? Ma questa strada da turista, se uno passeggia qui è pericolosa, soprattutto alla sera, perché l'illuminazione è poca, poi c'è questo marciapiede che effettivamente non esiste, c'è questo ciotolato e tutti camminano su questo ciotolato, se ci fosse un marciapiede sarebbe una cosa magari un attimino più comoda anche per chi ha le carrosselle, per chi ha altri problemi, ecco. Anch'io stessa ho inciampato nelle varie buche che ci sono, negli avvallamenti che ci sono, perché è sconnesso. Anche le strisce padronali non sono molto evidenti, come vediamo? No, più che altro a questa altezza qui non si fermano mai, passano come dei razzi, è una lotteria attraversare perché effettivamente è pericoloso. E un'altra breve di cronaca dove un incidente si è verificato a mezzanotte e 50 a Fano all'interno della rotatoria di via Pisacane che interseca con via Veneto. Un fanese di 57 anni mentre stava procedendo verso nord ha perso il controllo della propria Ford ed è finito contro il palo della pubblica illuminazione posizionato sopra la pista ciclopedonale danneggiandolo. Sul posto è intervenuta la polizia locale di Fano per i rilievi di legge e l'uomo è stato portato dal 118 al pronto soccorso di Fano in codice verde. Il via ai lavori nello storico istituto scolastico di Via Fermi a Montegranaro, siamo nel comune di Pesaro, è stato annunciato da Riccardo Pozzi, assessore al fare, e Camilla Murgia, assessore alla crescita e alla gentilezza. A partire da ieri, 22 agosto, è iniziata la manutenzione per la messa in sicurezza dell'edificio e l'efficientamento energetico delle aule e della palestra per un totale di 600 mila euro finanziati dai contributi del PNRR. Le operazioni si concluderanno nei primi mesi del prossimo anno, garantendo a ragazzi e ragazze il normale proseguimento dell'attività didattica. Si tratta di un intervento che conferma l'ottima sinergia tra lavori pubblici e politiche educative, precisa Murgia, che cerchiamo di attivare anche nel rapporto tra l'amministrazione, le scuole e i dirigenti. E dai monopattini di ieri passiamo ad un altro tema acceso, ovvero le biciclette. Sono diversi i messaggi arrivati alla nostra redazione riguardanti la poca sicurezza dei pedoni in centro storico, che spesso vedono sfrecciare le biciclette ad una velocità troppo elevata. Noi siamo andati a sentire il parere appunto dei fanesi. Molta gente si è lamentata del fatto che ci sono le biciclette che sfrecciano ad una velocità abbastanza sostenuta, specialmente in centro storico. L'ha notato anche lei? Sì, certo. Purtroppo c'è qualcuno che considera il corso una pista ciclabile. Qua è uno spazio prevalentemente pedonale, quindi in qualche modo chi va in bicicletta per il corso deve soprattutto rispettare i pedoni. In certe città, ad esempio Pesero o Signigaglia, hanno messo in certe zone il divieto di transito alle biciclette, altrimenti ci sono delle multe. Purtroppo fanno e fanno. Però poi, come sempre, la regola è chi fa rispettare le regole. Cioè, tu puoi anche dire che evitiamo che le biciclette possono essere portate solo a mano dalle 6 alle 8, all'ora dello shopping. Però poi se non c'è nessuno che fa rispettare le regole, diventano prese in giro doppie. Bisognerebbe controllare la velocità delle bici, soprattutto perché ci sono bimbi e quindi magari si rischia di creare spiacevoli incidenti. Però è un problema nazionale perché anche a Milano... Anche da voi a Milano? Sì, anche a Milano bici, monopattini e quant'altro. Ci sono delle zone che metterebbe a transito limitato anche per le biciclette? Probabilmente sì, oppure creare delle zone apposite per la circolazione delle biciclette. A Milano ci sono delle piste ciclabili con a fianco il marciapiede per i pedoni. Non sempre è realizzabile perché gli spazi cittadini non sempre lo consentono. Però credo che ci sia, al di là del limite di velocità, il buon senso della persona che deve prevalere. Girare per dover guardare ovunque dove arrivano le bici potrebbe essere scomodo, soprattutto per gli anziani, penso. Quindi magari qualche pista ciclabile in più, poi separata soprattutto dall'area pedonale. Perché ho visto che spesso le bici passano dove ci sono aree proprio pedonali. Scoltiglia di dov'è? Di Milano. Sì, lì abbiamo un po' più di piste ciclabili, non così tante rispetto a qui, però un po' più controllato effettivamente. Sì, abbiamo delle aree dove non si può passare, sono proprio sbarrate, quindi non si riesce a passare con la bici. Le biciclette, sì, molte volte vanno forte e via dicendo, ma anche i pedonali, quelli che vanno a piedi, non hanno un occhio nemmeno. Un riguardo da entrambe le parti. Sì, brava, brava, sì. Va un pochino regolata la velocità, poi non mi è sembrato così eccessivo, cioè non ho visto gente fare cose pericolose. Effettivamente in un centro storico magari uno dovrebbe limitare la velocità. Penso che basterebbe un po' di educazione da entrambe le parti, non c'è bisogno di nessuna regola fondamentalmente. Quindi tutto dipende dalla persona? Dalla persona, esattamente. Le metterebbe dei divieti, degli orari di limitazione? Limitazione, ma le limitazioni non esistono, perché quando c'è una limitazione tanto tutti vanno in bicicletta, veloci o non veloci. È meglio di dire che è una parte pedonale e non vanno in bicicletta. E ora come ogni sera diamo spazio alle vostre segnalazioni e partiamo dal quartiere di Rosciano, dove un reporter ha fotografato lungo la ciclo pedonale che costeggia la chiesa in via Meletti un lavandino abbandonato nella nottata di ieri. È veramente un pessimo esempio di inciviltà, ma da Rosciano ci spostiamo al Vallato di Fano, dove nella zona del centro commerciale un altro reporter ci ha inviato queste foto di un'isola ecologica. Nonostante le telecamere, scrive il segnalatore, questa è la situazione in cui versano i cassonetti, sporcizia e oggetti di qualsiasi genere come sedie, uno stendino, un aspirapolvere, un ventilatore e addirittura un materasso. Spero che le videocamere installate, conclude il telespettatore, abbiano ripreso chi ha fatto questo scempio e venga multato. E continua il nostro viaggio alla scoperta degli artisti locali. Oggi siamo andati a Fossombrone per conoscere un artista molto affermato e conosciuto da tutti per le sue opere d'arte tra dipinti e sculture. Si tratta di Amedeo Fini, lo ha intervistato per noi Cristiana Guerra. Amedeo Fini, lei è un artista di Fermignano, quindi nato a Fermignano, però residente a Fossombrone. Come è nata la sua passione per l'arte? Per l'arte viene fuori prevalentemente dall'Accademia di Belle Arti. Quanto è iniziato dal 69 al 73, in questi quattro anni, si è modificato o modificato proprio tutto il modo di pensare che l'istituto d'arte di Urbino mi aveva dato in una concezione completamente diversa, più europea. La sua arte varia dalla scultura alla pittura? Certo, senza ombra di dubbio, perché la formazione accademica e anche quella dell'istituto d'arte portava proprio alla modificazione dei materiali, cioè dal ferro al legno alla ceramica. Qual è il suo primo lavoro? Da dove è partito? Questo è un volto, non so, di un bambino, di una persona, ma molto piccolo. È stato uno dei miei primi lavori, proprio appositamente, per la costruzione del tondino e l'oro. In più, anche e soprattutto, il ferro, il tondino del ferro, cioè come si poteva lavorare, plasmare, saldare e renderlo un po' come la carne, come la parte viva. Quindi è sempre stata la mia passione. Quando sono partito dal plasmare, poi sono passato alla linea. La linea per me è fondamentale, perché è quella che rende la scultura leggera, abbastanza elegante e poi dà anche la quantità del volume, pur non essendoci il volume. A me piace lavorare quasi tanti materiali, però rifinirli sempre con l'oro, oro di Chino oppure ottonella. Le prime opere eseguite con la scuola proprio Cagliese, è quella di lavorare il tondino di per sé. C'è questa figura particolare di un uomo morto, di un soldato morto, che viene collegata anatomicamente sempre con tondini e la fusione totale del materiale stesso, dando la resa particolare. Poi dopo sono passato anche alla natura morta, dato che la natura morta era importante, ha incominciato a fare dei vasi, non solo le figure, ma il vaso fatto col tondino. Tra l'altro, prima di realizzare le sue opere, lei fa sempre dei bozzetti. Questo è uno degli ultimi pezzi particolari. Cosa rappresenta questo? Questi sono due bambini, sarebbero i miei due nipoti, uno è Ido e l'altro è Elia. È particolare come lavorazione, ma viene fuori da uno schizzo fatto a matita, ma poi dopo la realizzazione è molto pesante. Quindi è fatta esclusivamente con tondino grosso da otto e qui poi dopo c'è la lavorazione sia del bolo che dell'oro come rifinitura e anticatura. Quindi è uno degli oggetti particolari che a me piace moltissimo. Quanto tempo ci vuole per realizzare questa scultura, questa opera? Dunque, se uno pensa al pensiero, ci vuole una settimana per pensarla, perché deve avere anche una motivazione, deve avere quelle cose lì. Poi nella costruzione del ferro ci vuole un giorno o due. Questi sono due volti che vengono realizzati nettamente con un solo naso, due occhi e una bocca solo. Queste sono le ultime figure, gli ultimi progetti che in realtà... Questi sono tutti da realizzare? Questi sono tutti da realizzare. Questo addirittura è il ballo di Matisse, l'ho voluto fare e voglio provarlo a farlo esclusivamente solo con il tondino di ferro. Questo è il momento attuale, quello politico, cioè quello dei politici, dalla Meloni ad altri, destra a sinistra, in realtà è una giostra. Questo l'ha già realizzato o lo deve realizzare? Lo devo realizzare e la voglio fare prima delle elezioni. Merito ed onore ad Ario Costa, ex cestista e dirigente sportivo italiano, attualmente presidente e direttore generale della Victoria Libertas Pesaro, a cui è stata assegnata questa mattina l'ambita retina d'oro dell'edizione 2022, il trofeo simbolo della pallacanestro. Nel consegnare la retina d'oro il presidente Mario Ruffini ha commentato Con questo riconoscimento abbiamo voluto premiare la carriera agonistica e dirigenziale di uno dei giocatori e personaggi più importanti della pallacanestro italiana. Costa, nel ricevere il premio, ha poi dichiarato Sono molto orgoglioso di questo riconoscimento di grande valore, ne sono davvero onorato, mi auguro di averlo meritato e di meritarlo in futuro. Il trofeo è davvero bello, la retina è uno dei simboli della pallacanestro. Una serata travolgente, ricca di musica e divertimento, ieri sera in piazza 20 Settembre a Fano si è trasformata nell'America degli anni 50 con la cena spettacolo dal titolo Grease Music Hall, organizzata dal ristoratore Stefano Minisola, proprietario dell'Ideale. I protagonisti, i giovani attori e ballerini dell'associazione Happy Days che hanno messo in scena il famosissimo musical Grease sotto la regia di Marco Florio e la collaborazione di Caterina Maggini a cui hanno assistito centinaia di persone. Un evento importante per la crescita della nostra città e soprattutto di accoglienza in un periodo turistico come questo. È uno spettacolo mai visto prima, Fano ha commentato il sindaco Massimo Seri. Faccio i complimenti a chi ha avuto il coraggio di investire su questo progetto che speriamo possa essere replicato anche il prossimo anno e a quelli a venire. E questa era l'ultima notizia, vi ricordo che subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla diciottesima edizione del Paese dei Balocchi. Come vedete tra poco il numero per le vostre segnalazioni 338 49 68 250 vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro una buona serata su Fano TV. Grazie.